Buonasera a tutti, dalla voce di Bruno Pizzull andiamo a leggere i risultati finali della settima giornata che è stata molto emozionante. Andiamo a vedere i risultati tutti insieme. Salernitana a Lecce, 1 a 2 per il Lecce. Bologna a Empoli, 0 a 1 per l'Empoli. Spezia a Sampdoria, 2 a 1. Torino a Sassuolo, 0 a 1 per il Sassuolo. Udinese e Inter, 3 a 1. Cremolese e Lazio, 0 a 4 per la Lazio. Fiorentina e Las Verona, 2 a 0. Monza e Juventus, 1 a 0. Roma e Atalanta, 0 a 1 per l'Atalanta. E Milan e Napoli, 1 a 2 per il Napoli. È stata una serie molto emozionante da come vi ho letto. A voi i commenti su questa giornata carissimi tifosi di tutta Italia. Un saluto a tutti gli amanti dello sport e del calcio. È tutto molto bello, è tutto molto emozionante, è tutto molto entusiasmante. Inoltre, 3 a 10 minuti, 2 a 1 per. Grazie.